Ciao fiorellini, ciao fiorelline, pure oggi facciamo un video, è un video di compere come c'è scritto lì, ho fatto Shonpikzuv Shea e ho comprato delle cose per provare pure se non mi fanno allergia che voi sapete che io non posso mettermi le cose che sono sintetiche deve essere la maggior parte di cotone perché se no mi fa allergia l'ho trovato pure su Shea perché se girate, 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 girate trovate la roba di cotone, infatti ho scritto intimo di cotone dovete girare, scrollare, guardare se è di cotone perché c'è stanno tanti reggiseri che sono di cotone certi reggiseri no, pedalini che sono di cotone, pedalini no, mutande sono di cotone e mutande no ho trovato questo paio di pedalini che costano un euro per provare, ho fatto, me lo compro, questo qua lo voglio provare sembrano i pedalini del mio padre, ma dopo li li ho fuori e ve lo faccio vedere c'ha 73% di cotone, 20% poliesse e fibre e due spandex non si può stirare e non si può candeggiare, si può lavare a 40 gradi guardate, no, qua questo cotone è un po' scolorito, non lo so se si vede vedete qua 73% di cotone, vediamo se tiro più giù i pedalini, se si vede meglio ecco, allora vediamo dentro i pedalini come sempre io dico la mia opinione che mi piace troppo shay, mi trovo le cose belle e va bene, questo è di cotone, proprio buono di cotone mo me li devo mettere e poi vi dirò su un video come lo trovate se mi vengono le bollicine sulla caviglia, se mi vengono le bollicine in mezzo ai diti perché le cose sintetiche mi fanno venire e mi fanno gonfiare le caviglie se questo non mi fa problemi quando faccio le compre su shay, perché costa di meno su shay e c'è più varietà, più cose me lo compro lì quando mi compro per esempio la maglietta, pantaloni, robe così ecco, bellissime so, vediamo, vediamo se questi li ho pagati un euro un euro, dove le comprate un euro non c'è nei cozze cinesi, se comprano più un euro come un paio di pedalini di cotone poi, non sono sintetici, di cotone, di cotone, vi dico è un'altra cosa di cotone ok, qua ho comprato un bel reggiseno certo, questi non li indosso perché mi arrestano, vabbè io sono tutte persone grandi perciò non mi fa niente allora, questo reggiseno l'ho comprato all'85 coppa sci, le donne lo sanno vediamo come funziona questa cosa vediamo un po', ok vediamo allora, vediamo com'è questo reggiseno molto bello, grigio, l'ho comprato soltanto che a me non mi serviva per farle vedere più grosse, vabbè questo qua, bello reggiseno bello reggiseno mi piace perché a me quelli stretti non mi piacciono questo è bello larghetto infatti c'ha uno, due, tre è bello largo e mi piace tantissimo cotone 93% e 7 spondex ve lo faccio vedere perché io faccio vedere tutto vi faccio vedere che è di cotone vediamo è di cotone 93% cotone ok allora questo non lo posso indossare perché è molto piccolino a mia nipotina vi avrei ah no questo non è queste sono le mutande ancora perché ho comprato questo di la mia nipotina queste sono le mutande vediamo se qua c'è scritto che è di cotone no qualche cosa c'era scritto ah beh qua guardate i mutandoni certo sto facendo la dieta tanto secca non so i mutandoni vedete mutande bellissime sono di cotone e non dico stupitaggi perché c'è l'etichetta qua che c'è scritto cotone e sono abbastanza l'ho pagata 4 paia 3 euro mi sembra 3-4 euro una cosa del genere 2 euro non che me ricordo quanto l'ho pagata vediamo su Shea se le trovo e ve lo dico comunque a me la roba di Shea sapete che a me io sono innamorata e mi ho trovato le cose di cotone e penso che coprirò lì pure le cose di cotone allora reggisena 8 euro ho pagato ah le mutande 9 euro però sono di cotone 9 euro ho pagato pensavo che ho pagato di meno reggisena 8 euro invece il negozio costa 10 euro sicuramente ok a me basta che mi dà non mi dà fastidio poi sono di cotone ma si sente perché voi non potete toccare il materiale perché se no bello poi questa cucitura fatta così come è fatta con questa cucitura così non so come vedere perché non mette a fuoco tante volte la fotocamera vabbè questa non non riga le gambe ciao ciao allora un paio che taglia vi dico la taglia o xl o xl non lo so che taglia è allora rosa questo colore qua bellissimo questo colore quanto è bello questo colore e le mutante bianche 9 euro lo pagate io lo andavo a comprare costava di più però però vi posso dire pure che questo è più cotone quello che ho comprato io non è tutto questo cotone è di meno di meno meno di cotone perciò questo c'è più cotone sono più buone io purtroppo non posso mettere le cose sintetiche e perciò per forza devo fare questa cosa allora prendiamo prima l'ultima cosa ecco questo è il vestitino di mia riportina mi è venuta prima però io ho detto non posso tanto il vestitino perché se lo porto domani mattina perché devo fare il video per youtube delle mie compiere ok lei ha la taglia 90 apriamo oddio questa è la cinta e questo è il pezzo sopra molto carico mamma mia a me piacciono troppo le cose dei bambini e guardate quanto è bello poi ma poi voi non siete materiali proprio è buono è bello mi piace tantissimo questa è la magliettina guardate quanto è carina e questi sono i pantalogini i pantalogini mamma mia troppo carina ok mettiamola dentro perché questa qua la devo portare a Nicole è un mio regalo perciò la devo portare a lei e speriamo che vi vada bene mi ha detto questa misura la mamma mia figlia e vediamo vediamo ok poi poi mi sono comprata questa indosserò adesso iniziamo a trovare le cose che indossiamo allora la postera è carinissima c'è i fiori come ho detto io ho poche cose e piano piano ho comprato quella cosa lì per dividere i panni piano piano mi compro qualche cosa perché ho sempre le solite magliette guardate quanto è carina questa maglietta non lo so se vi piace una magliettina carinissima i canottierini a me piacciono tanto vedete così molto carina questa è taglia 2XL per sicurezza perché a me non mi danno non mi danno fastidio le cose strette poi la dottoressa mi ha detto che non devo portare le cose strette in vita ok questa qua la vedete l'andosso e vedete come sta vai ecco ecco la maglietta è così indossata è molto carina e ora ve la faccio vedere a lontano ancora c'è la panza ci vuole tantissimo tempo ora vedete vedete lì era così fatta è proprio morbida si porta bene molto bella sì no ok buona bella bellissima piacciono poi le magliette d'estate così e adesso andate lì a vedere cosa vi farò vedere dopo l'andossiamo sono ritornata e spero che vi è piaciuto come mi sta addosso ok adesso questa è la seconda cosa che mi tosterò sempre una maglietta allora molto carina allora c'ha le bretelline così e c'ha le maniche così è tutta nera vedi le magliette e ho trovato proprio quelle magliette che sono un po' elasticizzate queste qui così morbide ok questa qua almanica è così c'ha questi due laccetti c'ha la v qui e la v dietro e ecco questa è la maglietta è nera è nera maglietta nera bella è morbida e bella andate a vedere cosa vi farò vedere sono ritornata spero che vi è piaciuta avere questa maglietta o c'è dei pantaloni che vedrete bellissimi questa è un'altra maglietta perché io non c'avevo le magliette perciò mi sono comprata un po' di magliette questa sembra un po' come la netta non lo so però non è la netta beh perché è d'estate c'ha le maniche corte questa c'ha la cosa che c'ha questa bretellina qua è una maglietta semplice ok adesso andate a vedere e poi ritornate ecco questa è un'altra maglietta quella che dicevo che vi ho detto prima che sembrava di buon vernale non so invece no con maniche corte forse materiale non lo so e questa è fatta così semplicissima semplicissima così io non mi metto le magliette tutte attillate perché c'ho la panza la patina mi aprirò che arrivo al mio peso forma allora mi posso comprare le magliette attillantissime allora sì ma adesso no queste morbide le metto ok ecco adesso potete andare là ok adesso l'ultima cosa che ho perché non è che ho fatto 50-60 euro speso se paghi ok questo è X3XL perché io non posso tenere le cose strette poi la dottoressa ok questa qua mi volevo comprare i pantaloni un po' stranetti e le ho fatti scegliere a mio marito il colore e non vedevo l'ora che arrivavano questi pantaloni ce l'avevo ce l'ho i pantaloni già li vedete così ce l'ho i pantaloni mi servevano più le magliette però mi piaceva ah ho jeans strappati dove baglia non è che ce l'ho ho un paio di jeans strappati e un paio normali e questi qua invece sono un po' particolari sono particolari andavoli vedrete indossati sono jeans qua rossi e di qua neri che parole sono così vanno tanto di moda questi pantaloni qua non sono elastici vabbè quando mi dibagrirò mi metterò una bella cinta qua e e se riesco a stringerli pure il stringerò dietro sono molto carini mi piacciono tantissimo a questi li posso mettere a la lavatrice ok sono molto belli vabbè davanti così e dietro sono i soldi jeans soltanto la particolarità è quella cosa ok andate a vedere come mi stanno questi pantaloni via wow ecco adesso arrivano i pantaloni due colori non so se vi piacciono però io sono strana vedi le sacocce qua tutta qua quindi quando mi dimagrirò metterò la cinta qua tanto questi sono già stretti XL3 però sono strattivi non lo so c'è la panza qua va bene ok sono più stretti dei miei pantaloni di solito belli però io non so a chi piace però io sono un po' stranetta e mi piacciono queste cose così ok andate a vedere andate là e facciamo un ultimo saluto e sono ritornata spero che vi è piaciuto tutte le mie cose indossate e va bene vediamo se vi sono piaciute comunque io adesso vi lascio perché è finito questo video e aspettiamo la prossima compra a Sushet perché io mi comprerò solamente il Sushet perché c'è allora non costano tanto poi quelle mutande per esempio non l'ho pagata 8 euro l'ho pagata 4 euro perché ci sta la cosa di punti non lo so se voi usate Shea ci stanno i punti le cose che tutti i giorni li devi cliccare loro ti mandano l'avviso che ci stanno i punti li devi salvare per accumulare i punti e quei punti ti fanno risparmiare sulla spesa quando comprate i vestiti scarpe cappotti tutto quello che vi serve cose di casa cose per la camera cose per tutto io comunque ho comprato un anno fa le lenzuola rosa che vi avevo fatto vedere dovete vedere ancora sono belle non si sono strappate non si sono consumate sono super bellissime comunque a me mi piace lì peccato che non ci stanno tanti questi perché se no mi comprerei questo e quest'altro mi posso comprare una bustina 4 vestiti massimo 8 10 vestiti 12 pezzi roba così e va bene io adesso vi lascio spero che vi è piaciuto questo video vi sono piaciuti i miei panni le mie compre il vestitino di mia lipotina e tutto quanto io adesso vi lascio ciao al prossimo video ciao ciao ciao